A Susini ricordiamo quello che è l'articolo 1 del nostro statuto. La Lega non è terreno perché è nazionalista, è solo terreno per i nazionalisti toscani e i nazionalisti padani. Noi vogliamo, come diceva Umberto Bossi, noi siamo la continuazione dei partigiani che hanno combattuto per la libertà. La nostra libertà è l'indipendenza della padania e noi abbiamo bisogno di uomini disposti a lottare per questo. Viva la Lega! Viva la padania! Viva Umberto Bossi!